San Giorgio di Piano copre una superficie di 30,48 km² ad un'altitudine di 20 metri sul livello del mare ed ista da Bologna 18 km circa. Si distingue per essere un paese vivo, ricco di iniziative, momenti di condivisione e solidarietà. Chi non conosce infatti il tradizionale Corso dei Fiori dal 1983 è l'evento principale e più partecipato di San Giorgio che la sera del secondo sabato di giugno colora il paese con carri allegorici e gettito floreale dando via all'estate san giorgese. San Giorgio di Piano San Giorgio di Piano San Giorgio di Piano San Giorgio di Piano